Dopo qualche giorno di riposo il Foggia riprende a lavorare. Da oggi pomeriggio allenamenti al campo FIGICI, dove i rossoneri si alleneranno per tutta la settimana. Sabato pomeriggio testa Termoli per l'amichevole che si giocherà alle 17.30 allo stadio Cannarsa. Di certo l'impasto relativo, la questione campo basso con la conseguente paralisi della Lega Pro, il congelamento dei calendari e l'ormai certo slittamento a settembre di Coppa Italia e campionato modifica la tabella di marcia di mister Boscaglia con il Foggia che giocoforza sarà costretto. Termoli a parte ad organizzare qualche altra amichevole per mettere minuti nelle gambe dei rossoneri in vista degli impegni ufficiali. Procede nel frattempo spedita la vendita degli abbonamenti, superata la soglia delle 2.000 testere vendute. In casa rossonera si punta a superare l'asticella delle 3.000 sottoscrizioni, obiettivo che pare ampiamente alla portata visto l'entusiasmo che si è generato nella tifoseria rossonera, consapevole che questo può essere un anno in cui il Foggia potrà essere tra i protagonisti del campionato. Capitolo mercato, nome nuovo accostato al Foggia per l'attacco interesserebbe Adriano Montalto, 34enne, attualmente in forza alla Regina.